Si chiama CARES, ovvero Carezza in inglese, il progetto di ricerca ideato da un gruppo di giovani scienziati della Fondazione Santa Lucia e in parte finanziato dalla provincia di Roma. Presentato presso il Centro Congressi dell'Istituto, il nuovo lavoro avrà la durata di due anni, a partire da giugno 2011 fino a maggio 2013. Come target di riferimento ai ricercatori della Santa Lucia, tutti sotto i 35 anni, hanno individuato i ragazzi adolescenti con problemi neuromotori o con lievi deficit cognitivi impegnati nelle attività sportive. Lo scopo primario è quello di sviluppare un approccio multidisciplinare, capace di integrare le più innovative tecniche e riabilitative con l'attività sportiva, ma anche la promozione di un approccio partecipativo e la collaborazione fra le scuole, le associazioni e le istituzioni del territorio. Alla presentazione al progetto Ceres ha partecipato anche l'assessore allo sport della provincia di Roma, Patrizia Prestipino, e il titolare al bilancio di Palazzo Valentini, Antonio Rosati, che hanno ricordato il contributo annuale di 20.000 euro che l'ente verserà per lo studio. Sosteniamo per due ragioni, uno perché qui c'è ricerca, giovani ricercatori, uno dei grandi mali dell'Italia, spesso si discute che i nostri giovani cervelli devono andare all'estero per poter studiare e fare ricerca. In questo modo formeremo giovani ricercatori, tra l'altro una ricerca che riguarda lo sport e riguarda ragazzi meno fortunati che hanno avuto problemi seri motori e come sappiamo la ricerca è l'unica forse grande strada per portare a risolvere malattie gravissime. E lo facciamo doppiamente convinti qui a Santa Lucia che io considero una, ma non io, una delle più avanzate istituzioni europee di riabilitazione, studio per gravi disabilità e gravi traumi motori. Poi da assessore allo sport lo conosco bene perché Santa Lucia è un simbolo dell'attività sportiva per ragazzi disabili e lo sport lo vive proprio come integrazione sociale, culturale e recupero anche psicologico di tanti ragazzi che si trovano per natura o per incidenti invalidati. Ecco perché abbiamo pensato con l'assessore Rosati, io come assessore alle politiche giovanili e allo sport e lui come il bilancio di sostenere questo progetto di ricerca di giovani ricercatori perché sono tutti under 35, di un team d'eccellenza del Santa Lucia che è sotto il professor Caltagirone sulla disabilità giovanile, la reintegrazione e riabilitazione attraverso lo sport. In un momento in cui il governo taglia disperatamente i fondi della ricerca, in un momento in cui il Santa Lucia è a rischio chiusura perché non riceve i pagamenti dalla regione, noi come provincia facciamo la nostra piccola e utile parte. Uno dei ricercatori, il medico fisiatra Augusto Fusco, nel descrivere il lavoro che li attende ha voluto sottolineare come la ricerca voglia essere, ma è come in questo caso, un modo per investire nel futuro delle persone. Il CARES è un progetto improntato con persone che hanno lievi deficit motori e cognitivi a cui si integra la normale riabilitazione, le più avanzate tecniche di riabilitazione, in particolare con le nostre sperimentazioni, la robotica applicata, con servizi al territorio. L'obiettivo è quello di vedere se lo sport, la sport terapia che ha già avuto degli effetti, è evidente che abbia degli effetti e la riabilitazione riesca ad avere dei risultati positivi e dopodiché vedere di verificare le linee guida per fornire servizi al territorio. Una nota di ottimismo sulle sorti economiche della fondazione l'ha rilasciata il direttore Luigi Amadio che ha dichiarato durante il suo intervento come i tavoli di contrattazione con la regione Lazio riguardo il contenzioso stiano andando avanti. Ci sono una serie di incontri che noi abbiamo previsto nel verbale, congiuntamente con la regione che abbiamo previsto nel verbale il 7 aprile, stanno andando avanti, soprattutto ci sarà da risolvere il problema strutturale del finanziamento della struttura, però se c'è la buona volontà dimostrata anche con questo incontro del 7 aprile dobbiamo essere ottimisti. Al termine della presentazione del progetto sul palco sono saliti i giovani atleti della squadra i minibasket in carrozzella della Santa Lucia che da poco hanno guadagnato il titolo di campioni d'Italia.